La Juventus riceverà 10 milioni di euro, l'accordo è pronto. È un piacere averti di nuovo con noi. Prima di passare al video di oggi, iscriviti e condividi questo video. Coni de Winter lascerà la Juventus. Il belga, che è stato in prestito al Genoa da agosto, verrà acquisito definitivamente. Il difensore sta giocando molto bene al Genoa, giocando spesso. Nel contratto firmato tra Juventus e Genoa, c'era una clausola di obbligo di acquisto fissata a 8 milioni di euro, più 2 milioni in bonus nel caso in cui il difensore giocasse 23 partite. Coni de Winter ha recentemente completato 20 partite in Serie A e dovrebbe raggiungere le 23 per attivare l'obbligo di acquisto. In effetti, de Winter potrebbe raggiungere l'obiettivo già alla fine di questo mese. Tutto indica che Coni de Winter si separerà definitivamente dalla Juventus. Credi che il belga abbia avuto poche opportunità per mostrare il suo calcio a Torino? Commenta qui sotto. Grazie.